Non ci crederete, ma oggi davanti a una scuola ho visto due giovani che si baciavano, due giovani, un ragazzo con un altro ragazzo. Come sta la Silvia? Silvia, non la Silvia, mamma fortunatamente siamo a Roma, non a Milano, la Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni, cacare, non cagare, fica, non figa. Michele, per cortesia. No, non sono parolacci, questo è il linguaggio di noi giovani, noi giovani parliamo così. Ma quanto sei scemo, questi sono i risultati di un'educazione repressive. Pensa a cosa saresti diventato tu se avessi ricevuto un'educazione più moderna. Scusate, vado a fare il telefonato. Scusa, tumore. Grazie.